L'ultima fatica e partiamo dalla linea 57. Questo atteggiamento che Paolo ha è un atteggiamento estremamente pulito a livello psicologico, ma a livello dottrinale lui da dove deriva questo suo modo di pensare? Proviamo ad andare alla linea 62 e lì comprendiamo da dove deriva il modo di pensare di Paolo. Siamo nell'ultima cena, siamo nella versione giovanea dell'ultima cena. Dove Gesù parla parecchio. Fra le tante cose che dice, dice questa. Vi ho dato un esempio. Infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Questa frase è legata al gesto della lavanda dei piedi. Ma, come ogni frase di Gesù, è paradigmatica. Trovate sempre quel katos che è la chiave di volta di tutto. Questo come che pervade continuamente la dottrina morale di Paolo e Gesù pone il fondamento per questa dottrina morale. E cioè, lui è l'esempio. Naturalmente, questo esempio che Gesù dà di sé è un esempio che si estende non solo alla lavanda dei piedi, al servizio, ma si estende su tutto l'orizzonte della vita morale. Un esempio Alla linea 63, noi troviamo il famoso logion sul gioco. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. E quando noi parliamo di gioco, tua nonna, per quanto leggero sia, per quanto suave sia, gioco è, vero? È. Nel linguaggio orientale, il gioco è la rivelazione. Il gioco non è mai il comando. Non è mai il codice di leggi. Il gioco è la rivelazione. In altre parole, quando tu fai esperienza di incontro con Dio, non puoi più dire Dio non esiste. sei sotto il gioco, cioè sei sotto quella verità che non puoi negare. Perché? Perché ne hai fatto esperienza. Questo è il concetto che loro hanno quando parlano di gioco, e Gesù adopera quel linguaggio. Noi dobbiamo ricordare, proprio riagganciandomi al discorso che faceva Don Luciano prima, che nella logica della Chiesa Cattolica, prima c'è Dio, poi c'è la Sua Parola, poi c'è la Chiesa. Per il mondo cattolico, la parola di Dio viene prima della Chiesa e dopo Dio. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. La Chiesa accoglie la parola, la custodisce, la interpreta e la trasmette. Ma non ne è padrone. È esattamente il contrario. È la parola che è padrona della Chiesa. Dunque la rivelazione è questo gioco. Gesù chiama questo gioco dolce e leggero. Perché? Perché la rivelazione che Gesù compie è precisa, è l'amore del Padre. Lo dice il capitolo primo del Vangelo di Giovanni, al versetto 18. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio che è nel seno del Padre ed è Dio, lui lo ha rivelato. Quindi questa rivelazione mostra, è dolce ed è leggera, perché? Perché mostra questo amore del Padre, che non è l'amore scemo del nonno che ha perso la memoria. È un amore molto realistico che sa correggerti e perdonarti. e Gesù dice che per accogliere questa rivelazione bisogna avere l'atteggiamento del mite praius e umile di cuore. e come si fa ad essere miti e umili di cuore imparate da me. E siamo sicuterati in principio. Cioè Gesù si presenta come modello perché tu possa accogliere in maniera corretta questa rivelazione. Cioè questa scoperta che tu sei persona importante per Dio. Questa chiave di volta di tutto quanto la riflessione che stiamo facendo partendo da Paolo e andando verso i Vangeli per scoprire la radice che è Gesù Cristo ci porta a interrogarci sulla morale cristiana. A questo punto sul fondamento della morale cristiana. E il fondamento lo troviamo alla linea 72. un dottore della legge lo interroga maestro nella legge qual è il grande comandamento? All'epoca di Gesù c'erano due scuole una scuola teologica che diceva tutti i comandamenti sono uguali e un'altra scuola che diceva no ci deve essere uno che fa da perno attorno al quale tutti gli altri ruotano. E c'era questa specie di grossa discussione perché? Perché la seconda scuola rabbinica quella che diceva è necessario trovare il comandamento più importante questa scuola rabbinica aveva capito che uno non può mettere in pratica in maniera impeccabile oltre 670 comandamenti sono tanti già 10 è un'impresa titanica oltre 670 è una pazzia e allora giustamente questa seconda scuola rabbinica dice cerchiamo di trovare il perno perché trovato quello gli altri derivano senza difficoltà ma se noi invece li mettiamo tutti allo stesso livello ci ossessioniamo e la vita morale diventa nevrosi come diventa qualche volta anche per il cristiano qual è il perno? E lui questo dottore della legge cioè un biblista va dal rabbino e gli dice scusa dimmi come stanno le cose e Gesù da rabbino dieci lode bacio accademico pubblicazione della tesi risponde amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore punto con tutta la tua anima con tutta la tua mente è spiegazione di ciò che significa il cuore non sono tre cose sono le due ultime spiegazioni della prima questo è il grande e primo comandamento il secondo poi è simile a questo amerai il tuo prossimo come te stesso ciò che a noi interessa è non solo l'amore verso Dio l'amore verso il prossimo l'amore verso se stessi non dimenticatelo mai tre sono i destinatari non due ma nella nostra fase di riflessione importante è la linea 78 perché questa è la risposta che Gesù dà al rabbino al maestro della legge da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti dunque Gesù non è favorevole a mettere tutti gli oltre 670 comandamenti sullo stesso piano identico ma è favorevole all'altra scuola cioè a quella che dice prendiamone uno lo facciamo diventare perno tutti gli altri sono derivati e Gesù dice con chiarezza questo è il perno e da questo dipende tutto il resto da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti naturalmente cosa fa Gesù da buon rabbino fonda la sua risposta non su un ragionamento suo ma su una citazione del testo vetero testamentario la linea 74 75 la pesca la citazione la pesca dallo Shemach Israel linea 80 81 quello è ascolta Israele il Signore è il nostro Dio unico è il Signore tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore cioè con tutta l'anima e con tutte le forze comandamento del prossimo invece deriva da un'espressione del levitico linea 83 84 non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo con gli altri si gli altri puoi prenderli a cazzotti ma i figli del tuo popolo no non ti vendicherai non serberai rancore ma amerai il tuo prossimo come te stesso chi è questo tuo prossimo i figli del tuo popolo non gli altri chiaro Gesù invece come notate assolutizza questo comandamento e dice no questo è un comandamento che tu devi applicare a chiunque appartiene al genere umano non c'è differenza tra ebreo e non ebreo naturalmente l'ultima frase linea 78 da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti questo è stato per Paolo una rivelazione assoluta e lui sposa la seconda scuola ricordatevi che Paolo è un rabbino come Gesù solo che Gesù era un rabbino palestinese e a lui era permesso non sposarsi ai rabbini che non erano palestinese era proibito non sposarsi quindi Gesù poteva non avere moglie Paolo doveva averla dov'è questa moglie c'è 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 se voi leggete la prima i corinti capitolo 9 versetto 2 successivi la trovate perché Paolo dice non abbiamo diritto io e Timoteo a portare con noi la nostra guinea del fe come fa Pietro Pietro chi si porta dietro chi è questa guinea del fe questa donna sorella l'amante Pietro era sposato figuriamoci si portava dietro la moglie allora questa guinea del fe chi è la moglie perché Paolo dice io e Timoteo non abbiamo il diritto di portarci con noi la guinea del fe come fa Pietro non è la perpetua che vuol dire che Paolo e Timoteo erano sposati poi come mai nelle sue lettere non venga mai fuori la moglie è un problema però c'è un breve cenno se voi leggete con attenzione il capitolo settimo sempre della prima lettera ai Corinti lì nello sfondo torna fuori la moglie perché lui dice se marito e moglie non vanno d'accordo possono separarsi chiaro ma poi non fa l'esempio sul marito separato fa l'esempio sulla moglie separata e dice che deve far di tutto per tornare e allora chi sa leggere i testi dice ma scusa fino adesso hai portato l'esempio maschile qui porti l'esempio femminile perché 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 la dolce metà che gli ha detto mad che 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 mi ha detto che mi ha detto